Ehi! 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 Perché è il salvaggio! Tu non devi notare, nel senso tu comunque ti devi abituare che in acqua si gaspi, capito? E' più importante imparare a pagare. Guarda, Sergio! Sergio fermo, Sergio! Ah, ho capito, vabbè, no, 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 io pensavo... Dobbiamo spostare allora. E poi stanno volendo. Vabbè, e poi facciamo la saluta. Grazie. Ciao! Ciao! Ce la fai? Bene, ciao non ci vediamo a casa... Arriviamo! Sì là? Solo a sinistra. Le primi due agganizzate non nulla. Guarda che non vieni. Ok. Stiamo! No, 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 no! Grazie a tutti